1550 il Vasari nelle sue vite parla appunto della nascita di un vero e proprio mito che ancora oggi rimane non scalfito che è quello del segreto in pratica della grandezza dei della robbia ma leggiamo cosa dice andò tanto ghiribizzando che trovò modo da difenderle dalle ingiure del tempo perché dopo aver molte cose sperimentato trovò che dar loro una coperta di in vetriato addosso fatto con stagno terra ghetta antimoni e altri minerali e misture cotta il fuoco di una fornace apposta faceva benissimo questo effetto e faceva l'opera di terra quasi eterna quello che dice il Vasari è sicuramente vero cioè che hanno una durata impressionante hanno avuto ed hanno tutt'oggi una durata impressionante ma c'è anche un altro fattore il fattore luce infatti le le ceramiche robbiane anche se sono poste all'interno di una chiesa poco illuminata riflettono talmente la luce che sembrano essere stesse un punto di luce all'interno della chiesa in realtà il segreto sta tutto nell'ingobbio cioè nel tipo di in vetriatura che è stato dato alle opera di alle opere robbiane dei della robbia e tutto nasce negli anni 40 del 400 quando il capo stipide della casata luca dopo una serie innumerevole di prove e tentativi riesce per la prima volta a tirar fuori e a creare una ceramica completamente diversa dalle altre in realtà luca della robbia non inventò niente di nuovo perché l'invetriatura era un qualcosa che veniva utilizzata da molto tempo e praticamente a queste fasi prima si modella il vaso e si fa una prima cottura dopodiché si immerge questo vaso in una miscela stannifera cioè contenente stagno e dopodiché si ripassa nuovamente a cottura e questo dalla cosiddetta in vetriatura considerate che il vaso appena modellato e cotto per la prima volta si chiama in termini tecnico biscotto si proprio quello come quello che mangiava ma il grande la grandezza della robbia fu proprio questa il fatto di portare a vette sublimi il loro lavoro il loro lavoro di in vetriatura l'invetriatura ripeto esisteva già però produrre delle maioliche di tale livello con questi colori così brillante in questa luce solo loro riuscirono a farlo e questo fece sì che poi anche con andrea della robbia e fosse un'impresa familiare che durò nel tempo durò nel tempo fino a che un'altra famiglia quella dei buglioni prese in pratica comparve sul mercato ad affiancare della robbia con dei risultati non uguali a quelli della robbia ma molto vicini e come fu possibile perché ovviamente lo studio della robbia lo studio per creare questa in vetriatura particolarissima era un segreto un segreto che nessuno conosceva che ancora oggi noi non conosciamo esattamente siamo in grado di produrre cose simili a della robbia ma con dei procedimenti industriali che della robbia manco si potevano sognare e perciò rimane un segreto ma i buglioni come fanno allora beh qui si ritorna al vasare sempre che racconta il fatto che probabilmente il segreto ma qui si tratta di una spy story ovviamente che il segreto venne passato ai buglioni da una donna che riuscì a intrufolarsi nelle grazie chiamiamole così di uno dei della robbia e a sottrarre la formula segreta e passarla al buglioni si tratterebbe in questo caso di uno dei primi esempi di spionaggio industriale grazie a tutti